Siete, sedici, quindici, quattordici, tredici, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, eeeh! Buon anno a tutti, buon 2014, evviva! E adesso lo spettacolo dei fuochi d'artificio, e poi non muovetevi, tanti auguri a tutti quanti, non muovetevi, perché poi il finale del concerto di NEC!